E' stata inaugurata al lago di Trent, al confine fra Sud Tirole e Trentino, la via Vigilius, 109 chilometri da percorrere a piedi in otto tappe, da Lana a Trento, un ponte tra provincia e culture, è stato definito dai due presidenti, Ugo Rossi e Arno Compaccer. Giovanni Motter. Camminare in mezzo a Pascoli, boschi di conifere e laghi alpini, costeggiando castelli e santuari, questa è la via Vigilius, 109 chilometri dal monte San Vigilio a Lana fino a Trento, attraverso antichi sentieri. Otto tappe da 15-20 chilometri sulle ideali orme di San Vigilio, il santo che nel IV secolo fece opera di evangelizzazione nelle vali trentine e altoatesine. Un ponte fra provincia e culture è stato definito dai due presidenti, Arno Compaccer e Ugo Rossi, intervenuti all'inaugurazione al lago di Trento. L'idea di questo percorso è dell'imprenditore Ulrich Ladurner. Ero Vescovo di Trento, San Vigilio. Facciamo un sentiero che parta di quel posto, Sopollana, e va fino a Trento. A concretizzare l'idea, studiando i percorsi, confrontandosi con l'Alpenferrain, Sate e amministrazioni locali, Christian Ladurner e Mauro Thunner. Un lavoro durato un paio d'anni. Si svolge in una zona abbastanza sconosciuta, anche non tanto toccato del turismo come da noi in Alto Adige. Siamo passati apposta per San Romedio, siamo passati vicino a Castel Thun. A piedi, assaporando il silenzio della natura e il richiamo della storia. Questa è la via Vigilius.